La comunale di Santa Teresa di Riva, amici di UiSport, un cordiale saluto e bentrovati con la categoria Under-16, finale play-off, nel girone di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il Fair Play Messina ospita l'Academy Barcellona, formazioni che in regular season hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto alle spalle del Laga Messina, senza considerare ovviamente la fuoriclassifica città di Dormina. Passiamo dunque alle formazioni Fair Play Messina con Mazzullo, Morabito, Marabello, Cristian Biola, Calabro, Alessi, Buonasera, Suterra, Sanzarello, Guarneri, Guccione, risponde l'Academy Barcellona con Pino, Molino, Chiofalo, Genovese, Torre, Aprile, De Pasquale, Mostaccio, Sofia, De Gaetano e Cambria. Le immagini a cura di Mirko Giacopello per il film del primo tempo, 12 minuti di equilibrio, poi un cross dalla sinistra da parte di Buonasera, arriva in area in zona Guarneri, colpisce di testa, lo fa male, sprecando una possibile e ghiotto occasione. Al minuto 15 recupero palla di Sanzarello, il tentativo di conclusione viene deviato due volte anche dall'estremo difensore. arriva sul secondo palo ma si accontenta del corner, il fair play, minuto 20, Guarneri per Morabito, il cross su Sanzarello non controlla bene, ancora Guarneri viene abbattuto per il direttore di gara, si può proseguire, questo il presunto fallo da parte di Genovese. Minuto 25, palla in profondità di Marabello per Guarneri, tanto spazio per Guarneri ma a sinistra c'è Suterra, tutto libero, va alla conclusione, incredibilmente si divora il gol, Giorgio Suterra, quello del possibile 1-0. Minuto 26, ancora un pallone in profondità, vuoto la difesa dell'Accademia di Barcellona, Guarneri prova a saltare il portiere che riesce a recuperare ancora Guarneri, a porta vuota, gira oltre la traversa. Minuto 28, Mancino potente da parte di Guccione in area di rigore, finisce però sull'esterno della rete dopo la deviazione di Pino dall'angolo che ne segue Suterra, cerca il secondo palo dove Marabello colpisce la base del palo. Minuto 29, ultima chance della frazione con il pressing di Guarneri che favorisce il possesso di Guccione, entra in area di rigore, cerca il mancino, colpisce il palo interno, il pallone torna in campo, anche molto sfortunato. Il fair play Messina che avrebbe potuto chiudere sicuramente in vantaggio il primo tempo, tante le occasioni sprecate. Dal reparto offensivo bianconero al 44esimo, prima chance offensiva della ripresa, ancora fair play con Morabito che sfonda a destra, atterrato così da Genovese. Stavolta il direttore di gara non ha dubbi e calcio di rigore per i padroni di casa sul punto di battuta Suterra che può riscattare l'errore del primo tempo. E lo fa con questo mancino, il portiere intuisce ma non può nulla, è vantaggio, 1-0 fair play Messina dagli 11 metri. Giorgio Suterra, cinquantesimo, Guarneri per Sanzarello, prova a sterzare, cerca ancora Suterra, la finta, l'ingresso in area di rigore, la conclusione che sorvola l'incrocio dei pali. Cinquantasettesimo, entrano De Maria e De Odato per Morabito e Alessi, minuto 61, calcio di punizione a cadena di Barcellona. Aprile ci prova, manda in corner Mazzullo, minuto 63, nuovamente il fair play con Guarneri che fa correre De Maria a destra, perfetta l'azione con l'inserimento sul secondo palo da parte di Buonasera. Arriva puntuale ma sbaglia in maniera clamorosa il gol, sembrava fatto quello del 2-0. Settantaquattresimo entra Mangravidi per Guccione, settantacinquesimo lo stesso Mangravidi si riappropia del possesso. Bella giocata a saltare il diretto avversario, poi la conclusione che termina di poco sul fondo. All'ottantesimo il fair play Messina ancora alla ricerca del gol del raddoppio. De Maria in area su Sanzarello, gran giocata, salta Genovese, mette dentro la sfera. La difesa allontana in calcio d'angolo, riapprezziamo però il gesto del numero 7, tunnel netto ai danni dell'avversario. All'ottantunesimo proprio dal corner che ne segue, scambio corto tra Sudera e De Maria. Il cross per Mangravidi che di testa mette il punto esclamativo sulla partita al minuto 82. Soltanto un cambio per il fair play ultimo con l'ingresso in campo di Zaccaro al post di Sudera. E poi il tribice fischio, il fair play Messina vince per 2-0 contro l'Accademia di Barcellona. Lo fa con merito e raggiunge la fase regionale del campionato Under-16. Amici di WeSport un cordiale saluto e come sempre alla prossima.